Loredana Leciso e il suo rapporto con Albano, sono stata ingenua? Loredana Leciso ha ammesso che avrebbe dovuto difendere più il rapporto con il suo compagno. La compagna di Albano ha rilasciato oggi un'interessante intervista sull'ultimo numero del periodico di Gossip Nuovo. E in questa circostanza ha parlato abbondantemente della sua storia d'amore con il popolare cantante di Cellino San Marco. Ad un certo punto il giornalista del magazine ha anche colto la palla al balzo per chiedere alla Leciso cosa cambierebbe del loro rapporto con il senno di poi. E quest'ultima, con la sua proverbiale schiettezza, non ha nascosto che riflettendoci bene difenderebbe molto di più il loro amore. Difenderei di più la nostra coppia punto 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 sono stata ingenua a pensare che il mio amore per Albano fosse sufficiente. La compagna di Albano non ha dubbi, ho lasciato troppi spazi e troppe porte aperte. Successivamente Loredana Leciso, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche confidato di essere più che certa di aver lasciato troppi spazi e porte aperte nella loro storia d'amore. In ogni situazione vanno costruiti confini per evitare che uno invada il territorio altrui punto 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 in maniera equilibrata, questi confini vanno stabiliti per il bene di tutte le parti e ognuno deve in qualche modo tutelare la propria realtà in modo razionale e senza mai esagerare. La mamma di Jasmine Carrisi, la quale potrebbe ben presto tornare in tv, ha anche confessato di essere stata forse fin troppo ottimista nel difendere la sua storia con Albano. Comunque sia a parte le varie crisi e i pettegolezzi quest'ultima non ha nascosto di essere particolarmente felice che il loro rapporto ha da poco raggiunto l'importante traguardo dei 25 anni, significa che il nostro amore si fonda su basi solide. Albano, la sua compagna ha rivelato com'è il loro rapporto oggi. Il giornalista del Magazine Nuovo ha poi chiesto a Loredana Leciso com'è oggi il rapporto con il suo compagno. E la mamma di Jasmine Carrisi, con estrema schiettezza, ha dichiarato che tra loro c'è grande affetto e consapevolezza. Ognuno conosce i propri pregi e difetti eppure quelli dell'altro. Quest'ultima ha poi confessato che nel corso degli anni la loro storia d'amore ha anche preso una piega ben diversa, il nostro rapporto si è molto rafforzato con la crescita dei ragazzi, che hanno contribuito a renderlo ancora più saldo. La Leciso ha infine svelato che con il compagno e i suoi figli c'è un confronto continuo, la condivisione rende tutto migliore.